si apro le gabbie partite le cavalle della quarta corsa del pomeriggio la condizionata per femmine come da copione happiness therapy parte bene si porta subito a condurre con diabilità che la segue da vicino posizionandosi sulla sua tre quarti in terza galoppa invece naiel in quarta posizione si è invece sistemata de dams che anticipa martingana alle spalle di questi troviamo river spirit poi ancora zittella e leondina primo parziale è stato moderato con happiness therapy che sta graduando senza forzare particolarmente la mano sempre diabilità che ne segue le mosse in seconda posizione poi naieli che è rimasta in terza posizione zittella ha guadagnato una posizione precedendo adesso de dams poi il terzetto di coda formato dall'interno verso l'esterno leondina river spirit e martingana si procede in questo ordine quando le cavalle hanno già percorso praticamente metà curva sempre lo stesso copione happiness therapy a cadenzare ritmo nei confronti di diablita poi in terza posizione sempre mani sul collo c'è naieli che precede zittella che si è messa un filino a tiracchiare poi de dams leondina river spirit e martingana siamo in retta d'arrivo happiness therapy comincia gradatamente ad accelerare diablita non le ha mai concesso sosta in questa fase naieli che temporeggia in terza posizione all'interno zittella che muove alle spalle proprio della stessa diablita ancora de dams martingana river spirit leondina tutte che hanno cominciato a muovere adesso la corsa ha subito un'improvvisa accelerazione happiness therapy è sotto la pressione di diablita ancora non richiesta solo pizzicata sulla spalla sposta dalla terza posizione anche naieli zittella che in quarta corsia in quinta corsia c'è de dams siamo a 300 dal traguardo con happiness therapy che prova a tornare sulla stessa diablita che adesso ci deve mettere tutto per tornare con happiness therapy contro diablita prova ad aggiungersi alla lotta naieli che adesso fa il finalone happiness therapy contro diablita e contro naieli happiness therapy contro naieli che ci prova l'ultimo tuffo ma happiness therapy dovrebbe aver mantenuto la posizione è necessaria la visione dello stretto ma dal nostro punto d'osservazione happiness therapy è riuscita ad emergere da rivedere anche forse un piccolo contatto accento dal palo tra happiness therapy diablita ma chiaramente un'impressione del tutto personale se salita un pochino oppure diablita è scesa un po ma comunque sia se distratta diablita e quindi alla fine ha perso anche il terzo posto lo si vince abbastanza chiaramente qui sul palo happiness therapy che mette una corta testa si può dire siamo lì sulla corta testa rispetto a naieli rientrata la grandissima terzo posto per diablita mario sanna in sella ad happiness therapy per il training ai colori della stefano botti tarf ottava vittoria in carriera quota clamorosamente in discesa 2,25 anche questa è l'immagine che ci certifica addirittura quel contatto di cui vi parlavamo se abbiamo la possibilità regia lo rivediamo velocemente e le due arrivano a contatto le due vanno a contatto chiaramente c'è materia per una eventuale on field review rivediamole qui siamo completamente live un po piccolo incontatto c'è stato infatti sono la sirena da capannelle per la quarta per ora è tutto grazie a tutti grazie a tutti